Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di WeCraft Allora, eccoci di nuovo qua Ho fatto un paio di aggiornamenti relativi alla casa Infatti ho espanso un po' il mio sistema di refined Che comunque va bene in primo momento Qualcuno mi ha chiesto nella solita puntata come funzionasse questo piccolo coso Ve lo spiegherò magari in qualche altro modpack Tipo probabilmente anche la holistica stessa se riuscirò E in ogni caso sto un attimo sistemando varie cosette Ho creato un sistema di energia che più o meno si rende stabile Perché ho utilizzato un pillar, vi faccio vedere che ho fatto tipo una cosa qui dove sta solare Che arriva verso qua ed è piena di energia, tantissima energia Quindi tengo abbastanza stabile l'energia che esce dal sole per non avere problemi durante la giornata Quindi tutto funziona abbastanza bene Oltre questo però ho fatto altre cose Infatti ho sistemato questa stanza rendendola un po' più bella Ho utilizzato quindi la parte relativa al seaweed e al riso Quindi il riso e seaweed qui Quindi potrò ufficialmente iniziare la realizzazione del nostro sushi Ora ho pensato due cose Uno utilizzare una cosa che mi autocrafta dei fish Che potrebbe essere una buona idea Oppure utilizzare in qualche maniera qualcosa che diciamo fa il fishing E non ho visto nulla di troppo interessante stanno alla fishing net Non so se la fishing net funziona per come vorrei io Perché in realtà potrebbe essere una buona idea Però rimane il fatto che devo ancora sistemare varie cosette Posso fare anche addirittura il tipo il riso di tofu Però a noi non interessa il riso di tofu Infatti vorrei fare il riso normale Cioè il sushi normale che abbiamo sempre visto Quindi tutto normale e tranquillo Che si fa in questa maniera Abbiamo tutto necessario tranne una cosa Una cutting board che comunque si può craftare senza problemi E volevo fare un impianto che mi autocrafta i sushi Una volta che spingo un bottone Giusto per far vedere magari a chi viene qui Come si fa un sushi Ok? Quindi tutti i vari step Quindi questo è lo step 1 ragazzi Poi ci sarà lo step 2 e lo step 3 Che porterà alla creazione vera e propria del sushi Quindi tutto abbastanza normale E abbastanza utile Come si fa in sostanza? Ve lo faccio subito vedere Ovviamente dobbiamo però craftare un paio di cosette Infatti mi serviranno un paio di deployer In questo caso Cosa possiamo utilizzare? Possiamo utilizzare dei dispenser Che vanno bene per il lavoro che devono fare adesso Quindi perché no facciamo un dispenser E il dispenser non si faceva con un arco Ah mi sa che l'hanno fatto anche quello un po' più facile da fare Vabbè tanto è più bello sinceramente Quindi va bene Quindi un paio di dispenser va bene Che mi serviranno per diciamo buttare fuori la roba che a noi serve Ok? Quindi devo utilizzare un dispenser che butta un oggetto sopra qui Vi faccio vedere come funziona Basta mettere per esempio del fish E io con un impulso di lightstone o qualcosa del genere Quindi in questo caso un pulsante E quindi mi andrebbe bene un pezzo di stone Probabilmente se ce l'ho Eccolo qua Magari se riesco Tac Posso far sì che Lui in automatico vi fa un pushing Di un solo piccolo pezzo qua sopra Ovviamente verrà buttato in questa maniera qui Cosa che non vorrei Quindi potremmo optare per una soluzione un pochetto più architettonica Ma più bella secondo me Che andrebbe bene Questa roba che vedete qui Sono diciamo i nostri tappeti Della immersive Che adesso non mi chiedo Non come si chiamano Si chiamano Conveyor belt Ecco sì Italiano per favore Grazie E devo farmi un paio di queste robe Che sono i factory block Che io ho in grande Diciamo Considerazione per questa serie Perché mi piacciono avere un sacco come blocchi Quindi perché no E poi danno l'idea comunque Che siamo vicini A un sistema Di una vera e propria fabbrica Quindi perché no Quindi devo fare in modo che Da qui Cada il nostro Coso Ovviamente Devo fare in questa maniera Ci mettiamo dentro Un raw fish E quindi in teoria Adesso in questa maniera Cadrà un pesce Che verrà Automaticamente messo lì dentro Vediamo un attimo se funziona Cade Come vedete Arriva qui E da qui passa Al secondo stadio Il secondo stadio È un crafting In cui il pesce Viene diciamo Unito Al riso E all'alga Per poter fare del sushi E alla fine Il sushi verrà creato E spostato In un certo modo Ok Quindi mi servirà un attimo Creare la stanza A mio piacimento Quindi creo la stanza E vi faccio vedere Come creare tutto il meccanismo Bello Che ci renderà le cose fighissime Oggi niente troll Ma in futuro Un bel troll Ci starebbe E anzi Ho una bella idea Per un troll Quindi vediamo assieme Il procedimento ragazzi Vediamo se funziona Più che altro Il vero problema Di questo sistema Sarà diciamo Mettere un timing Perfetto Per far arrivare la roba In un certo modo E che sembra Diciamo più o meno Interessante Bella come cosa Perché se no Lì potrebbe essere Un pochetto difficile Se mi sono appena accorto Di aver sbagliato Una cosa In realtà Questa qui Dovrebbe andare Un pochetto più dietro Ma vabbè Ci lavoriamo subito Adesso non preoccupatevi Per ora Iniziamo magari A sistemare questa cosa Per far sì Che arrivi Un solo impulso Alla volta Va bene Più che altro Di qui Poi deve passare Quindi mi serve A aver fatto un hopper Ho provato tutti i metodi Ragazzi L'hopper Mi sembra Il metodo più facile Poi dovrebbe nasconderlo Quindi non dovremmo avere Problemi di nessun tipo E quindi da qua La roba arriva E passerà dentro qua Vediamo un po' Se funziona questa cosa Io faccio una conveyor belt Che in questo caso Dove essere il nostro pesce Il pesce passa Dentro il nostro hopper E finisce qui dentro Nel dispenser Giusto? Sì Finisce nel dispenser Non c'è un insert Quindi sono stupido io Più che altro no Quando fa un extract E qual è il problema Perfetto Ok C'è Eccola qua Quindi ci siamo Alla fine A fin dei conti E da qua sopra invece Devo un attimo fare un'altra cosetta Perché di qua Devo eliminare questa Perché questa qui non ci va E di qui devo fare un altro sistema Che mi permette di arrivare Di fare arrivare Una sea weight E una E una sola ragazzi Pezzo di Di riso Speriamo di riuscirci Perché sennò Diventa un po' complicata la faccenda E poi niente da qua Dovrei andare avanti A farmi L'altro pezzettino Che mi rimane Tra l'avete questa cosa Che è una porta logica Ragazzi faccio questa cosa Che vi stavo dicendo Quindi facilissimo In realtà come funziona Ve lo spiego Molto semplicemente Magari per qualcuno Che non è diciamo Abituato a utilizzare Le porte logiche Non sa cosa Cos'è la matematica Cioè la giuna di bulpi Che altro Quindi cosa dobbiamo fare In questa maniera Con questo coso ragazzi Io faccio si Che quando ricevo un impulso Da un qualsiasi posto In questo caso Magari questo qua E solo quando ricevo un impulso Di questo tipo Ok Il segnale viene passato A un altro sistema Che in questo caso Dovrebbe essere questo qua Che ovviamente sarà fermo E funzionerà Soltanto in questa maniera Quindi come possiamo Far sì che Qui venga Diciamo utilizzato Più che altro A questo punto Possiamo mettere 30 secondi 20 secondi Va benissimo Qua Devo fare in questa maniera Molto semplicemente Ovvero mettere un attimo Qua E magari è meglio Prima crearlo Per farlo vedere Sì forse è meglio Quindi che succede Ora abbiamo ABC Abbiamo che Questa è la B Questa è la A E questa è la C Quindi quando succede Che abbiamo Un segnale di redstone In soltanto B Quindi solo quando C'è il segnale di redstone Qui Che succede Lui Andrà a fare Un keep Quindi andrà a continuare Ad emettere Il segnale di redstone Va bene E ovviamente arriverà Dove è giusto Che sia Se no sarà fermo E funzionerà in questa maniera Però ovviamente bisogna fare Una cosa Diciamo contraria Perché noi vogliamo Che il segnale di redstone Non sia sempre attivo Ma sia disattivato E poi si reattivi Quindi più o meno L'idea è questa Questa qui Ok Il problema è che Devo un attimo Sistemare varie cosette Perché qua esce Sta cosa Esce sta Bagnetta acqua Che mi da parecchi problemi Facciamo direttamente Con un solo Uno di questo Una porta logica Ragazzi Che mi permette Di far arrivare La redstone Dove voglio io Quindi tipo Girerò così adesso E arriverò fin dove Devo arrivare Il problema è che magari Avrò un po' di difficoltà A azionare tutte queste cose Perché il fatto della leva Qua Il fatto più che altro Dell'acqua Mi crea un po' di difficoltà Maledizione a me Che ho detto quel giorno E perché non facciamo Una cosa Che possiamo Far arrivare fino a qua Vabbè comunque L'importante ragazzi Che arriviamo un attimo Fino a dove dobbiamo arrivare Da quella parte E iniziamo a inserire Tutte le cose Che ci servono adesso Ok In questo modo Magari Possibilmente Cercando di fare Molta molta tensione Ovviamente alcuni blocchi Dovremmo ricostruirli Poi non preoccupatevi Però sono davvero pochi Non preoccupatevi Ok circuito creato Dovrebbe funzionare O almeno si spera E quindi qua Ho fatto in modo Che la roba Arrivi in un certo modo E quindi tipo Cade all'improvviso In una certa maniera Ovviamente Devo un attimo sistemare Queste cose Per farle funzionare Al meglio Il vero problema È che ogni volta Devo ricostruire tutto Perché c'è questa Benedetta E maledetta acqua In realtà Che mi dà Sempre più problemi Maledetta acqua Stai ferma Perché mi fai buttare In via dei circuiti Maledizione quanto la odio Vi giuro Ovviamente sto temporizzando Tramite tipo Un'attesa di tic Il tutto Così che non esce La roba Diciamo subito subito Ma deve dargli del tempo Per uscire la roba Quindi un attimo Se qua funziona Mettiamo questa roba Qui dentro Poi mettiamoci Un repeater E qui dentro invece Ci andrà un dispenser Va bene E vediamo un po' Se la cosa funziona Al 100% Mi servirà un bottone Da cui devo fare arrivare L'impulso E allora Vediamo un attimo È qua a sinistra Quindi qua Dove mettere un bottone Magari poi lo possiamo modificare Poi vediamo Quindi faccio così ragazzi Da qua dovrebbe colare la roba Vediamo un po' Perché non lo fai Perché non ricevi il pulsante Di fare un keep È una A quella Giusto Lo sapete che forse Non è la A quella Maledizione Però non mi viene In mente Quale potrebbe essere Allora Ah ok No quella Ok devo stanto Emettere Sina di redstone Quindi adesso dovrebbe Arrivare la roba In teoria E funzionare E sembra aver funzionato Il problema è che devo un attimo Magari modificare questo qui Per rendolo ancora più lento Di quello che è Perché sennò qua Tipo butta la roba Troppo velocemente E non mi va bene Per nulla ragazzi Quindi magari devo fare Justamente un paio di repeater Setati A4 Che funzionano Leggermente meglio Rispetto a quelli stati Normalmente Vediamo un po' Se va bene Quindi se io faccio così Arriva la roba qua Che viene buttata Poi viene buttata Da quella parte E poi arriva lì Direttamente Vediamo un po' Se il tempo È giusto Allora Redstone torch Qua ci va Uno di questo Vediamo un po' Quando il tempo ci mette Vediamo Redstone torch Buttata Arriva troppo velocemente Quella cosa Quindi devo settare ancora Un paio di cose E poi arriva qua Ok Va piuttosto bene O almeno fa il suo lavoro Quindi mi va più che bene Per il momento L'unica cosa che adesso devo fare È far arrivare qui Del pesce Qui ovviamente La parte relativa A tutto ciò che mi serve Quindi pesce E le altre due cose Mentre di qua Devo fare l'autocrafting Quindi mi servirà anche Craftare O fare un crafter E quindi mi servirà Un autocrafter Facciamo un crafter normale Insegniamone quindi Come si fa un sushi Ovviamente deve utilizzare Un paio di cosette Allora Dobbiamo quindi fare Keep one item In every inventory slot O no In realtà va bene così E più che altro Dobbiamo un attimo Fare una cosa importante Allora Ovviamente dobbiamo fare così Vabbè sì Credo non sia un problema Quindi questo dovrebbe Venire qui dentro Non lo utilizzerà O comunque non la butterà Mentre il resto Dovrebbe andar bene Dovrebbe funzionare Quindi devo tanto vedere Se funziona Il problema è che forse Ho sbagliato una cosa Perché qui Sushi va bene Che sia così Ok Il problema è che Devo dirgli no Guarda non questo Ma un pesce vero e proprio Ok quindi Bam Sushi Questo qua Deve insegnarli Perfetto Quindi un attimo Se funziona Mi serve assolutamente L'energia E l'energia Vedremo come farla Arrivare Da qua L'importante è che per ora Sistemiamo questa cosa La facciamo arrivare Bene 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 Quindi ci sono adesso Due export Sì Messi due export Adesso dobbiamo Semplicemente mettere dentro Tutte le cose che servono Quindi uno di questo E poi Una di questa Tranquillamente Perfetto Quindi da questa parte Facciamo solo Tanto questo Da questa parte Tanto questa Vediamo un po' Se arriva Ok qua arriva Se Wade Qua arriva invece Il riso Perfetto Ora va testato Il tutto In un certo modo Niente per ora Il coso Mettiamolo qui dentro Però anche qui Servirebbe un altro export Che fa la stessa cosa Che fa uscire Insomma la roba Il pesce Vediamo un po' Se funziona Proviamoci Pesce uscito Perfetto Da questa parte Uscita questa roba E qua perché non è uscito Se Wade Non so perché esattamente Non è uscito il Se Wade Sapete Questo è un problema Come mai non si è uscito Bella domanda Scusami Il segnale di lezzo Non arriva Ah giusto Perché sono iota Sono scemo io Non ho fatto il segnale di lezzo Che continuava Oddio No 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 Di nuovo Ah quanto odio L'acqua L'ho già detto in questa puntata Un sacco di volte Lo so Ricostruito E migliorato Ne andrò ancora un po' Più lento del necessario Vediamo un po' Se va bene Qui abbiamo sempre i pesci Perfetto Vediamo un po' Allora pesce esce Vabbè più o meno Alla fine Ora si attiva quello Che butta la roba qui dentro Giustamente adesso c'è la redstone dentro Non so per quale ragione Ma vabbè facciamo finta che sia giusto Deve avventare in realtà il raw fish E giustamente qua Se non è coperto Lui mi crea un po' di problemi Però non te ne dovrebbe andare bene Vediamo un po' Cade il pesce Il pesce arriva In tempo Esce questa roba Perfetto Va qui dentro In automatico poi esce Di qua Quello che deve arrivare Più che altro Essendo questa una cosa che va automaticamente creata Farà uscire la roba Soltanto quando Diciamo avrà l'opportunità Quindi tutto normale Quindi adesso dovrebbe tutto funzionare A meraviglia E quindi dovrebbe autocraftare la roba Quando arriva Va bene E il sushi L'abbiamo detto già come si fa Quindi non dovrebbe avere problemi Proviamo a vedere se funziona questa cosa Bene 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 Allora Siete pronti Aspettiamo un attimo che arrivi il tick Ok Ok vai Buttato Perfetto Lui va bene Butta questa roba qui dentro Perfetto Arriva qua in tempo Butta questa roba qui dentro Che è automatico Che arriva qui dentro Dovrebbe autocraftarmi Il sushi Che dovrebbe andare qui dentro Peccato che però Non Il cutting board Non dovrebbe finire qui dentro Ovviamente Il vero problema In realtà di questo coso È che mi butta roba qui dentro Se si potrebbe risolvere Credo facendo così Perché non dovrebbe essere un problema Anzi no Facendo sì così È vero Però non in questa maniera Magari mettiamo una Un segno Un qualcosa per dividere qualcosa Vediamo un po' ragazzi Se funziona di nuovo Dobbiamo riprovarci tante volte Possibilmente Se butti bene i pesci Ok La roba arriva qui dentro Vabbè Il fatto che cade Non preoccupatevi Poi lo aggiustiamo E sushi verrà craftato Il vero problema è che La roba Che in questo caso Il cutting board Se ne va via Cosa che non dovrebbe fare in realtà Perché il cutting board Se ne va Ok Eccolo qua Ho capito Ho capito l'errore ragazzi Qual era Infatti gli ho detto Guarda solamente quello Deve rimanere qui dentro In automatico comunque Qui dentro mi sta buttando Tutto ciò che serve Perfetto Vediamo un attimo Se funziona adesso meglio Quindi Vediamo qua Mettiamo questo cutting board Qui dentro Questi qui li possiamo Levar E in automatico Adesso lui dovrebbe Craftarmi la roba Possibilmente non far cadere Gli oggetti Quindi metto un attimo Questo giusto per protezione Diciamo Che dovrebbe funzionare Si spera Poi metteremo il glass Insisto ancora Vediamo ragazzi Tutto questo Per un semplice Una semplice stronzata Che però è bella Ok quindi arriva Perfetto E da qua adesso Crafterà il sushi Che verrà automaticamente Buttato via Eccolo qua ragazzi Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ovviamente da qua Poi arriverà dentro Alla parte che deve arrivare E quindi noi possiamo Mangiarci il sushi Tranquillamente Ragazzi miei Abbiamo creato un sistema bello Però dobbiamo migliorarlo E modificarlo al meglio Quindi pian piano Lo sistemeremo Per ora però vi saluto Ditemi cosa ne pensate Se non abbiamo una bella idea Però ovviamente va ampliata E migliorata E questo soltanto per far vedere Alla gente Come si fa un sushi E basta Eh siamo persone stupide Ciao ragazzi Nel prossimo video Ciao ragazzi 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 Grazie a tutti.